Riassunto delle puntate precedenti Thanks, mate Sì Porca puttana Chiesa santa di Kane Oh, una mappa No, è scomparso Adam Jensen illegale figlio di Kane Un hobby più santo del normale Cos'è? Che cazzo Che cazzo è successo? Che cazzo è Oh, la tenda, la tenda, la tenda, la tenda, la tenda, la tenda Eh, dove sei? Sì, andassimo sul promontorio il molo Quello di Cernogors No, no Però Geronimo Geronimo Benvenuti nel nostro mondo Ed eccoci Alla terza puntata Di Non mi ricordo nemmeno come si chiama DayZ 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 Con Obix Alder E tre nuovi ospiti Che si tratturranno da soli Perché se no io cosa faccio? Tutto il lavoro Dai Chi è che è il primo? Chi è il primo? Chi è il primo? Il primo Il primo Lui Non c'è casino Oh, porca puttana E quanto il cazzo di colpi ci farà? Un caricatore Che spreco Che arrivano altri Oh, Cristo Che spreco Che schia Ah, ma l'altro è una donna come me Ah Ma allora possiamo fare Ah, aveva una binta Cose scolce Caricatore olympic Cosa vi ha questo? Io Io sono Carter Sono Vediamo un pochettino Che bella Carter La schiena è uguale però Call of Juarez Este Carter Ah Comunichiamo per Bene Della stampa Che Io ho cambiato sesso così All'improvviso Mi è spuntato un fucile Cosa del genere Zombie Ti è caduto Ti è caduto il pipino Ti è caduto il pipino Il terzo membro Che suona male Oltretutto Il terzo membro Attualmente Boh Non è qui Fk Non so Fai i cavoli suoi Forse arriverà Comunque mi date il tipo Perché sto morendo di Distanguato Grazie Poi già qui Dov'è che sei? Oh bene è qui Decker Decker qua sono Ah sei lì Ah presentati Presentati Beh io sono Decker Che bello Decker E' quello col Con l'M10 E' il baffetto Ecco ma non mi dà l'opzione cura No cura Bisogno di cibo Cibo Io aspetta che arriva tipo il critico Chi è entrato? Chi è entrato? Chi è sto tizio che corre? Possiamo far fuoco? E' quello che corre là Ma non sparare così Oh quello è morto? Ho ucciso Locke Non l'ho visto entrare Tutto mio Tutto mio Bastardo Cos'ha sto tizio? No Non cazzo Questa no Oh fan Ho fatto la brutta fine sto tizio Io non l'ho visto Saldr Ti serve ancora cibo? Sì un minuto che chiedo la porta della chiesa Nascondiamo i corti Vieni sull'altare Vieni sull'altare che ti do io Vieni la sacra Rando Qua c'è Dove? Rando Vieni qui In fondo alla chiesa C'è una scatola di fagioli Sì sì sto Sto prendendo qua Prendi la sacra Ah è morto Saldr Ah c'è una freccia qua Una freccia da balestra Perché non mi dà l'opzione di prenderla Ah Ho a te Si aperto la porta Zombie Zombie Morto Ottimo Com'è che lo prendo? Aspetta Guarda il carrello Saldr Sì sto mangiando Zombie Oddio Carrello Qui in fondo C'è Vabbè Sarcela Saldr Voilà Fatto Ok adesso una seconda Io sono tantissimi No Non quell'io Quattro voci Cerro Gli spreco Però E scatta di più Scatta di più Quale è bugato E' morto E' morto Devo trovare una pistola Porca troia Ah io ho c'ho delle munizioni Per cosa Per cosa La metto qua sulla tavola Vediamo che cosa c'è Porca troia La macchera Dalla ma Qua qua L'ho messo Laga non usate L'infield Perché attira Un bordello Allora Allora non posso sparare Mi dispiace E' che posso sparare Ah ecco Non la vedete di stare Ho delle munizioni da fucile a polpa Se qualcuno Cerco E' bella Che sto Viva la porta Viva la porta Vado io Bene Guardate un corpo solo in testa Altrimenti non ce la facciamo Eh dove sono le munizioni Dei fucile a pompa Che non le vedo Nel mio zaino Aspetta Aspetta Butto il G Caricatore mp5 Che non mi sembra un kaiser 12 headshot Mamma mia Questo chi è Kane Se no io Se no Un mignotone Finita l'ondata Direi di fare missione ospedale Cioè Eh sappiamo Xalder perché sta morendo Chi è che c'è le munizioni Chi è il tizio Chi è Chi lo so qua Carter Un'altra Esatto Nessuno ha l'infield Io ho l'infield Comunque c'è gente No non c'è gente Eh vabbè Mi trovi Aspetta molto Vediamo questi cosa Vediamo questi cosa Vediamo il team Sì 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 Qualche benda Sì boh qualche benda Uno due Pain killer Una soda Oh zombie Con la confusazione Tranquilli Sì sì Poi c'è Ci sono dei Dei fagioli qua prendo io la bottiglia d'acqua mi può servire io tanto ciao ma una cosa, nascondete i corpi di quelli che abbiamo già perquisito così adesso capisci ma la tazzo basta non ha niente adesso nascondiamolo voglio vedere come incastrato no niente che mi sta scattando ma è solo Gesù Cristo sa perché vai eh già allora erano un bel po' è un po' troppo un po' troppo non è che sei ritirati dietro tutti il tizio di prima che meno ha incominciato lui poi con gli spari si metti altri fino al fianco o nel fianco è buone head pack qua c'è una pezza per aumentare la temperatura corporea ho fatto fuori almeno tre caricatori uno spreco assurdo bene ok quel corpo li manca allora i becchini missione missione ospedaliera guida hobby tutti vicini attenzione zombie subito non ho colpi o la pistola ahia sono già ferito che fare di sangue no non neanche mi sono già bendato no sto ancora sanguinando perché ma io ho b dico io passiamo dalla fireplace magari ti ho spavolato dalle cose sì passiamo dalla fireplace aspettate che mi vendo come scatta maria come scatto la testa scatto già un pc di merco un 40 gradi in questa attualmente 40 gradi quindi penso un po' io vado davanti allora incorretta accucciati o sdraiati ragazzi io sempre ho un dardo da balestra quindi ci dobbiamo quillare uno zombie senza fare rumore fatemi ok in giocontino attenzioni a ce l'ha uno zombie a sinistra a destra beh non è un problema sì sì parteste qui siamo da qua sotto in chiesa ne sono entrati appena tre o quattro di zombie per la cronaca c'è ging ging ci siete? ok non correte non correte sì scusa ho fatto un errore aspettiamo gli altri magari sì sì se exhalder sta un po' laggando è più lento aspettate che setto un comando è riuscito zombie ci sono zombie vicini d'altra parte che abbassa la qualità video che cazzo aspetta un minuto vabbè aspettate possiamo entrare qua dentro aspetta ne abbiamo fermo a destra non dovrebbe essere un problema no è lontano per ora aspettate sì sì mi devo dare il penkiller cosa? devo darti penkiller fammi vedere se ce l'ho dovrebbe essere meglio non devi darle a me a te servono ne ho tre ne ho tre e usa 3-1 ok ci siamo che fa il penkiller scusa andiamo ehm non è che devo svolgare il locale che può essere se entri in questa casa e lo fai va bene eh perché mi qual è la casa questa? no perché fa scazzare non capisco che cazzo rola fammi passare scusa ahia c'è un pupo sopra sta camperando senti attenti rivoli zombie ragazzi ah guarda come guarda come su una porca miseria chi è? sta camperando io ho solo l'infiltre trepa bravo oh zombie 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 aveva un po' di roba addosso eh prendo c'è anche la mia prendi anche la mia eh io prendo la sua qualcuno prenda la roba di hobby un minutino che eh guarda col bastardo non cambierà più sto stronzo di merda eh c'è qualche munizione interessante tizio la ragazza ha una AKM aveva anche oh ma rovo che è questa qua ah si pioio pioio vado a vici a dire vado a vici a dire raga sì carrello aspettate eh quali sono le munizioni del del winchester ah granata secondo 15 qualcosa granata allora aspettate un secondo ha questo schifo di computer che mi sta laggando solo come aspettate lì o andate avanti sì dai l'HPM chi se lo prende eh forse mi prendo più io perché non ho un cazzo oh no aspetta prendetemi un infield altrimenti lo prendo no volevo prenderlo io no ma prendetevi l'M16 dai allora prendo l'M16 e dove sono le munizioni dell'M16 dentro dentro ah ok che bastardo stava camperando lì eh vabbè ora bastardo salder spostati dalle scale no lo vedo se scusate ho venuto aspettate che non riesco a fare un cazzo scusate comunque c'è il mio il mio fucile che l'ho lasciato per terra non so se mi riesco a fare un cazzo allora sopra ci sono band oddio guarda cosa avevo questo qua ah le borse di sangue aspetta una due tre quattro cinque sei carni si le carni le ho già preso un po' io eh dai fammi una flema aspetta allora per chi ha la k47 qui al piano terra c'è un caricatore ok grazie hai fatto fanno scoparile bravo oh come hai fatto a nascondi corpo nooo sono scemo il rifiode che ha quell'infild di hobby se puoi dov'è il caricatore della nascondi io ho già la m16 qui al piano terra la m16 quanti colpi ha di solito eh non lo so qui no no perché no 17 il diritto dove appunto la pistola caricatore senti butto un coso della flebo fatemi questa flebo perché non capisco un cazzo aspetta 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 no niente semmai non va bene per il mio te lo do io te lo do io te lo posso adottare si si no purtroppo no ecco dovrebbe essere aumentato il sangue no aspetta quanto sangue abbiamo si si ora c'ho 1000 1200 perfetto oggi mi ha fatto fademi una traspusione anche a me per favore c'ho la k mappa io si 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 un minuto non ne ho più di sangue no io ce l'ho io ce l'ho quel cazzone là via va il aspetta un minutino che mi che ho più di super incazzato porto da un chi è che prende le infilde di hobbie io già sono pieno aspetta l'infilde che usare munizione utilizzata aspetta che me ne ho me lo metto nello zaino io vai 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 va bene cazzo ma non vi sei domi controlliamo che c'è sopra anche stanno seguendo tutti uno mi sa stanno tutti dentro l'edificio allora qualcuno segua anche me piano tu aspetta minuto ti hanno colpito ok trasfusione in corso fermati qui ci sono qui ci sono pochi piove qua c'è un painkiller un hatpack e una munizione un caricatore di ammoro no la spursione è andata a buon fine eh no non è andata a buon fine io non so se riesco a tornare aspetta 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 ora perfetto grazie ah prego prego avete persa la guida no ma io non pensavo che c'era un tizio qua neanche io io ho tre zombie dietro e lo sto sanguinando in che posto sei Obi? sto venendo verso l'aeroporto quindi sei distantissimo no l'aeroporto è vicino vabbè nel senso ah c'ho un caricatore a K però sto morendo di sangue ci vediamo all'ospedale allora continuiamo noi non restiamo troppo scinete giù sa che chiudo la fila sapete la strada almeno dell'ospedale io mi ricordo qualcosa guarda che se metti segnito sulla mappa te lo fa vedere dove devi andare qui in basso ci sono dei preghi è che ha un caricatore M16 no M16 dietro di te ci sono dei preghi per fuccire a pompa no no non ho fucile a pompa no chi ce l'ha chi ha Winchester io c'ho Winchester però non so quale utilizza quale aspetta ah usa tutti solo che certi sono hanno meno proiettivi ti occupano una granata fumogena qua ah ah si si due granate fumogene e dei caricatori per fucile a pompa ma a me non lo fa vedere il segnalino che ho messo in mappa oh a me non me la faceva vedere a me si la fa vedere oh c'è una granata fumogena qua vedete eh che ha detto se no 2 quando siamo pronti aspettate che arriva salda aspetta si si sto arrivando se continuo che prendo io mi sa che mi che rimuo io perché ho detto ho detto cazzo si siamo fuori dalla porta del retro sul retro allora passiamo alla macchia eh si sto arrivando oh chi è ah ecco io 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 forse li sto seminando avete le sacche di sangue di qua si 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 zombie zombie allora si li sto seguendo eh merda terra terra z ma che cosa fa ma no chi ha sparato no 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 era silenziato era silenziato ottimo non era statamente necessario però io non corro le rischie ma io non corro le rischie ma si ferma da solo il sangue a volte si 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 ah buono intanto i dardi ci recuperano ah è vero scusa buono arcobaleno bello rainbow anche sto guardando l'arcobaleno yeah magari alla fine c'è un tesoro 340 metri provo a vedere l'accampamento militare quante mappe abbiamo zombie zombie destra e sinistra si striscia strisciate quante mappe abbiamo due no io ci ho pure l'amore si si no 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 ma le cavalo c'è una granata fumogena se c'è qualcuno che cerca di ammazzarci quindi ottimo dio valore ammazzarci seppone mdre tente si 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 ma non ho trovato un cazzo 1 provvedere attento attento alla tua destra di che inna oggi la coppola arcobaleno un po' tanti proviamo a passare dagli alberi a te la rossa erano i zombie salda tutti i morti no no quelli sono soldati morti proprio con la città pasto scemo non m'ha visto dai car ma ci siamo dove se qualcuno ha bisogno del sancio la trasfusione ok via tanto sono a 10.000 e cento 11.000 quasi si va bene tanto perso solo mille unità di sangue siamo tutti rimasti indietro qualcuno beh io dov'essere l'ultimo penso si 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 occhio che c'erano zombie dietro eh direi che ci possiamo piano piano alzare dai muri bene il sacrificio di hobby il sacrificio di hobby lui pensava che era un solo giocatore con dei fucini ma non riesco a prenderli no no anche io l'ho visto sono IAK ma è tutta scenografia quindi finti passiamo attaccati a questa fata che c'è lattine di coca cola cosa c'è qua un coltello c'è qua eh scusa aspettate devo mangiare eh pure io un attino si c'è caricatore CZ 550 una coca cola e un coltello da caccia ecco prende il coltello da caccia ok io ho fatto sento un po' di zombie eh si entriamo dentro questa casetuccia casuona casina c'è un'accetta per chi serve qui per me io ho messa una mano ok quelle da tagliare in legno si si la prendo io la prendo io nida nida xalder è entrato? no no aspetta che stavo prendendo le cose dove siete? stiamo nella casetta qua eh qui c'è qualcosa eh raga qui c'è munizioni munizioni sento zombie? ammo ammo si c'è pieno non sparate non sparate cazzo merda non sparate ah no c'è un caricatore dell'IA e un field qua facciamo fuoco? eh si sono troppi non ce la facciamo meglio indietriggiare forse tagliamo sulle scale che è meglio ok ammazza ammazza stai sanguinando si 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 ora amico c'è un altro colto da caccia qua è un caricatore oh AK-47 ho trovato bravo via c'è una ruota qua ci sono dei pezzi di scarso stanno arrivando eh? altri zombie? si m249 addio passa passa sono munizioni però cazzo non riesco a passare ecco no chi che spara? chi che spara? no lo spara ma ci sono dei caricatori dove? copri le scale salve? copri le scale salve? si si sto copriendo le scale per l'M4 o l'M4 è un player aiuto l'M24 ok ha ammazzato lo zombie ok prendo il caricatore dell'M6C cc la dita questo c'è una bandana c'è una bandana c'è un bacio c'è un bacio eh metti da l'imbossa magari si si ce l'ha passo un attimo attenzione ah meno male non sto sanguinando ma il lì di obi ce l'ha io ce l'ho il lì oddio aspetta che... se casco di qui mi spacco proprio la faccia e mi spacco sta arrivando un altro di zombie eh no no qua non è una posizione non mi piace questa posizione no 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 attento c'è sono una camperace si può salire sopra ma che cazzo è? ah aspetta un minuto scendo le scale un minutino no cazzo raga qua ci sono le scale a pioli no 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 non salire là perchè non penso è meglio fare il percorso come abbiamo fatto poco fa ho sbagliato puttana carrello ma cazzo di carrelli di me dov'è che siete? io sono ancora sulle scale in una struttura grigia vicino all'ospedale alla ferrovia vabbè ma per adesso non sento colpi devo ancora appiccinarmi guarda un po' le sentirei vabbè seguo la ferrovia allora siete lì ma... no obi non è meglio che vai alla chiesa oddio 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 questese d extmi sminchiando vedete uno con la capo pari o a riuscire a dire sono sparato da pesca o comandore di finire presto le munizioni da macro vedo c'è sette di luogo poi ci sono un bel po' di rompia non si rivolgono e spariamo tutti quelli della città occasione che abbiamo fatto ho un colpo usato alla testa con la pistola non usare io ho sparato solo a testa di fatti per qua mike salda salvacidu e chi mi salva a me scusa nessuno per qua un bandage che domande interessa allora qualcuno usano munizioni per qualcuno chiedeva caricatori della macro io c'ho munizioni della capa le bende ci sono sembrano finiti qua c'è munizioni qua c'è munizioni m24 no per il città ho trovato delle munizioni per la capa 40 via libera ragazzi si può scendere ma aspetta che controllano fuori si non vedo nessuno non vedo nessuno no ci dovrebbe essere nessuno io sono quasi arrivato alla stazione bene gli skin sono tutto nero 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 zombie vicini no no sono abbastanza no ce n'è uno qua si sta avvicinando là dietro ci sono due proiettili per toccire la pompa eh si qua qua è passato davanti eccolo c'è ancora la stazione no 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 balestra balestra ok la balestra bene 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 non si possono salire scale ok cosa c'è vedo ancora la stazione non siamo sì sta arrivando sotto se tutto un po' di aceso zombie che vai dietro qua dietro qua dietro siamo sotto un portico no ok io faccio io faccio no ho sparato ma cazzo scusa vabbè sei vado abbastato il che fa una zombie davanti a noi comunque vi porto dei zombie se c'è qualcosa un po' vendi la cosa più interessante comunque kane si sta avvicinando no che cazzo è che ho sentito lo sparo e la davanti vedete lo zombie mezzo busto si faccio una skin potremmo metterci qui no 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 oh stammi lontano brutta merda fallo uscire da lì sotto che poi li spara non vorrei perdere il vabbè come l'hanno detto ah c'è la sonda qua c'è la oh ce n'è un altro che arriva da qui vabbè ormai aiuto arrivano tutti ragazzi occhio arrivo anch'io non lo sparatene lo prendo con la palestra 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 dai ammazzalo permesso non metterti davanti non metterti davanti ah sei tu ah che brutta non mi vede eh non vedevo dietro c'è qua un'accetta per il legno però jane si non mi vedo dov'è che sei siamo in una struttura che non mi sembra più tanto una stazione più una cosa industriale comunque sempre sui binari io sono in mezzo ai binari dove ci sono i quattro binari sono seguito da due zombie aspetta che te lo dico dove ci sono i sacchi di sabbia ora sono? ah forse sei troppo in là troppo in là? devi tornare noi siamo nella diramazione dei binari dove c'è il binario unico devi tornare indietro ok da te faccio il giro dai sacchi di sabbia troverai due o tre persone sui binari e anche la morte e anche la morte zombie deve arrivare di qua non mi vedo ah no c'è qua uno zombie aspetta aspetta o siete da questa parte uccidilo con la palestra ah ecco ecco l'ho e l'ho attenzione groundlocker antricitiziano reportati in questa comunità cove lock cauterizz scatare 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 antricivil activity level 1 protection unit prostituzione duty sword operazione protection alert segura che condivistico e che alle progetto se tratta Grazie a tutti.